Il partito radicale trasnazionale Soprattutto la tua impressione sul 39esimo congresso e se ci vuoi parlare delle battaglie che secondo te fanno la differenza nel partito radicale. Sì, l'impressione su questo congresso, devo dirlo, mi lascio un po' interdetto il fatto che ci eravamo lasciati allo scorso inizio anno con la prima sessione per riaprire questa seconda sessione dove mi aspettavo anche in virtù della crisi economica e finanziaria in atto con i suoi riflessi sulla democrazia e sulle istituzioni democratiche. Quindi mi sarei aspettato comunque un'attenzione maggiore all'attualità. Mentre siamo sì rimasti ancorati ai nostri grandi temi storici del partito trasnazionale ma manca secondo me in questa seconda sessione un elemento di attualità trasnazionale che è la crisi finanziaria, la crisi dei debiti sovrani, la ristrutturazione dei debiti, la riforma del sistema monetario perché a mio avviso ciò che è deleterio in tutta questa crisi è proprio un sistema monetario che ha degli errori di fondo e le conseguenze che questa crisi e il sistema monetario sottostante ad esse comporta in quanto deficit di democrazia e di libertà. Tant'è che oggi Marco Pannella parlava ormai di democrazia reale così come c'è stato in passato il socialismo reale per dire che le nostre democrazie non sono compiute. Correttissima quell'analisi la condivido appieno andava secondo me però prevista una commissione che analizzasse proprio l'aspetto dell'economia, della crisi, della finanza e i suoi riflessi su questo aspetto delle istituzioni e del deficit di democrazia e di libertà. Oltre che chiaramente analizzare laddove vi fossero le connivenze che ci sono tra politica e finanze e quindi laddove l'uno è funzionale e l'altro comporta la produzione di questi deficit democratici. Insomma sostanzialmente abbiamo che la peste italiana diventa peste europea e a breve immagino diventa peste occidentale per non dire mondiale. Alfredo, l'estensione dei diritti, parliamo dei diritti civili, possono essere di rilancio per l'economia italiana ma parliamo anche di economia mondiale? Guarda, se parliamo di economia mondiale sicuramente, se restringiamo l'ambito di analisi all'economia italiana credo che possa incidere poco, soprattutto in un periodo di crisi in cui la crisi non dipende da fattori strettamente nazionali ma dipende da fattori di carattere sovranazionali, anzi più che sovranazionali, addirittura trasnazionali, quindi di interdipendenza tra continenti, non solo tra l'interno degli Stati europei, ma addirittura di interdipendenza tra Europa e il sistema britannico, Europa e il sistema degli Stati Uniti. Quindi in questa ottica certamente le libertà e i diritti individuali vanno comunque perseguiti al di là dell'aspetto economico. È chiaro che in una situazione di crisi economica, come dicevo prima, c'è il rischio che addirittura che i diritti già acquisiti, non solo in Italia ma anche in altri ambiti democratici, siano messi a grave rischio, quindi forse in questa fase bisogna soprattutto concentrarsi sulla difesa dei diritti già acquisiti, secondo me è molto importante, perché io preavverto il pericolo che questa crisi economica e finanziaria ci possa portare indietro su certi diritti che abbiamo acquisito nel corso degli ultimi 40 anni. La libertà di parola, ad esempio? Io ho preoccupazione anche di questo, quantomeno che ci possono essere, già oggi ci sono delle forme di autocensura, quindi non c'è sicuramente una censura, ma magari delle forme di autocensura per evitare di provocare incidenti diplomatici tra gli Stati in crisi tra di loro e per evitare altre cose. Allo stesso tempo osservo che sui mercati finanziari ci sono dei mobilitati capitali con operazioni fatte al limite del legale, in certi casi forse anche con dei risvolti penali, però fatte perché fatte al di fuori dall'Italia difficilmente perseguibili e che hanno incidenze sull'economia dei singoli Stati e di conseguenza si ripercuotono poi sull'economia dei singoli Stati di fatto vanno a alledere i diritti degli individui e delle libertà individuali. Alfredo, io volevo chiederti una cosa, visto che siamo comunque nella sede del partito radicale che è trasnazionale, indipendentemente dal fatto se in Italia alcuni diritti vadano difesi o meno, pensi che sia una battaglia che non tramonterà mai quella dell'antiproibizionismo, intesa non solo come antiproibizionismo delle droghe, ma come antiproibizionismo per temi etici come il fine vita, parliamo dei diritti civili, delle coppie omosessuali, ma parliamo anche di situazioni come la prostituzione che andrebbe elevata dalla mala vita in sé e normata. Sì, io in genere non solo su questo tipo di diritti che noi riconosciamo storicamente come battaglie nostre, non solo su questo è un atteggiamento antiproibizionista, ma anzi per me ci sono molti altri ambiti che andrebbero quantomeno liberalizzati o quantomeno legalizzati o normati in maniera meno rigida. E addirittura una delle cose sulle quali interverrei è creare un sistema monetario, che vuol dire la possibilità di monete in concorrenza piuttosto che avere dei sistemi monetari in regime di monopolio. Perché come è già questo, avere dei regimi in concorrenza, non in monopolio, comporta che a mio avviso più controllo sul sistema finanziario, non il contrario, ed è più difficile, magari sì, si hanno crisi più frequenti ma di minore entità, ma non hai crisi in controlla del globale come queste, anche perché la funzione di scambio economico, in realtà è una funzione naturale, umana, non si capisce perché ci deve essere qualcuno che debba in qualche modo assumere il monopolio di questa funzione. Così come a mio avviso non ci deve essere chi assume il monopolio etico o legislativo sul rapporto che c'è tra un uomo e una donna, tra un uomo e un uomo, una donna e una donna, insomma, comunque sia. E' una libertà, cioè ognuno deve nella propria autocoscienza, nella propria consapevolezza, nel proprio manifestarsi regolare con l'altro la propria relazione. Lo scambio monetario paradossalmente, anzi non è paradossalmente, è bene, è a tutti gli effetti una funzione naturale perché non si capisce questa imbadenza, questo intervento tale, se non nella funzione del proibizionalismo per controllare e per avere un potere, così come avviene con i diritti degli etrosessuali, dei diritti degli omosessuali, dei diritti... Delle persone anche diversamente abili. Diversamente abili, ma io ti dirò anche degli etrosessuali, si parla pochissimo, è un fenomeno che comunque c'è. Quindi a maggior ragione poi, se vogliamo correre l'aspetto economico, andiamo sulla prostituzione, c'è un fenomeno che è vecchio quanto il mondo, quanto volete, ce n'è una funzione morale, ma di fatto tu hai che quella professione viene comunque svolta, viene svolta in maniera che è deleteria per le persone che la svolgono, lasciando a parte se siano meno costrette, ma di per sé già legalizzare uno stato di fatto, ti porterebbe a far rientrare nella legalità la situazione e quindi non a lasciarla alle mafie, così come pure per le droghe. E non solo, poi avresti un maggiore controllo che ti consentirebbe di avere meno costi sociali, e oltre a meno costi sociali che poi si traducono in costi economici, ma addirittura avresti dei ritorni in termini di pill che puoi mettere non più a nero, ma di prodotto interno lordo che si produce e su cui tassare, oltre a normare per una questione sanitaria e altre questioni. Ringraziamo Alfredo Pauciulo, militante radicale, dal 39esimo congresso del Partito Radicale Trasnazionale Roma. Grazie. Grazie. Grazie.